ciao mitici e mitiche come state come state ragazzi e ragazze allora ascoltate marco drums games glitch 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 gran turismo 7 dopo l'1 e 17 credo che la patch ultima che hanno fatto andiamo così vi dico proprio giusto 1 e 17 esattamente 1.17 c'è questo bel glicetto se volete un po di soldini un po di bigliettazzi gratuiti allora è questo dei menu extra che dovete andiamo sul menu extra toyota 88 lo schippiamo menu extra 1 lo schippiamo lo schippiamo lo schippiamo ciao luca!! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ok ecco le nostre belle toyota torniamo sulla schermata principale ed ecco un bel bigliettazzo mi raccomando di andare a aprirlo ogni volta vediamo, ruolo di tamburi io il pronostico è pochi soldi ma beh 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 dai non è stato proprio cattivo stavolta ok 30.000 lozzi, vai usciamo usciamo cerchio cerchio caffè la mia collezione menu extra andiamo a aprire il terzo vai menu extra mazza, motore rotativo chi c'è stavolta sarà sempre Luca sempre Luca schifiamo, schifiamo, schifiamo tanto se non l'avete ancora visto ma assolutamente l'avrete già visto il filmato potete schifare che bella questa master cerchio cerchio bigliettazzo mi raccomando tutte le volte di aprirlo andiamo sull'omaggio 6 stelline 6 stelline rullo di tamburi motore smotors ci sono un botto di motori amici miei vediamo per che mezzo la ford mustang cerchio cerchio caffè caffè la mia collezione menu extra primo x e appena arriva il nostro amico Luca xxxxxx eccolo grande Luca più veloce del vento e vai e vai perfetto biglietto biglietto vi da un bel invitazzo caffè la mia collezione menu extra 3 le mazza motore rotativo vai xxx Luca grandissimo illustre xxxx 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 ok belle mazza cerchio cerchio e cari amici potete continuare all'infinito finché ne avete voglia e finché secondo voi ne vale la pena quindi apriamo questo bel motore e mi raccomando switchate tra il primo e il terzo fate come ho fatto io nel video fate il primo se no poi comunque diventa noioso il video switchate collezione primo uscite aprite il biglietto andate al terzo uscite aprite il biglietto ok ragazzi mi raccomando sempre di fare l'alternanza primo terzo primo terzo primo terzo ci vuole un po' di tempo ma secondo me secondo me ne vale la pena sempre sempre se volete usare questo tipo di glitch finché non verrà sistemato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con un bell'iscrizione al canale mi piace il video, commentate se avete bisogno ci sono tanti video tutorial tanti video trofei tanti video delle live e tanti tanti video di giochi al day one mi raccomando, seguitemi che porto anche al day one il formula 1 2022 e tantissimi altri giochi, playstation 5 e xbox serie 6, ok ragazzi allora, con questo glicettino che ci fa polifoni, ringraziamo Marco Drums Games, il mitico draghetto arrabbiato, vi saluta e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi, e mi raccomando seguite tutti i video che ci sono anche dei bei video di settaggi auto per Gran Turismo 7 sempre, ciao amici alla prossima ciao a tutti i video di settimana ciao a tutti i video di settimana ciao a tutti i video di settimana